E' iniziata la partita, il Paternoy gioca il primo pallone con Mento, lancia in avanti subito per Urso e c'è la chiusura di il Russo del città di Sant'Agata. Poi Cicirello va a servire Lupo che viene chiuso in fallo laterale da Ciarcial. Arrivano fischi per lui, la sovrapposizione di Bontempo, il cross che parte sul secondo palo, occhio perché è pericoloso, prova a staccare di testa Cicirello. Primo brivido del match, prova dalla sponda qui, occhio a questa conclusione. Sarà il città di Sant'Agata a dar vita a questa ripresa, attaccherà da destra verso sinistra rispetto ai vostri teleschermi. La difesa del Paternoy, il cross che arriva messo fuori, ancora dalla difesa paternese, poi altro pallone dentro che finisce tra le mani di Caruso. Lancio in avanti, occhio a Micica che è in posizione regolare nella rigore, Micica col sinistro lo incrocia. Castagna prova a puntare il suo diretto avversario, si accentra ancora Miraglio, uno due che si perfeziona, Castagna in aria. Castagna, che occasione questa per il Paternoy con Castagna, ha avuto il match point. Si accentra Urso, palla dentro, interessante, esce con i pugni in Ferrera. Lancio in avanti per Urso che prova a buttarsi dentro e c'è calcio di punizione per il Paternoy e cartellino giallo. Cartellino giallo per Russo che era già monito e viene espulso. Tutto pronto, il fissio che arriva, calcio a Urso. Niente da fare. Balsamo in avanti per trovato Tricamo per un ottimo staccatore di testa e occhio alla ripartenza del Città di Sant'Agata che trova il gol, che mette la parola fine. Arriva il tripice fischio, il Città di Sant'Agata è in finale di Coppa Italia, delusione per il Paternoy. Sfuma l'obiettivo finale per il Paternoy, due partite molto equilibrate col Città di Sant'Agata, decise sostanzialmente dagli episodi, pesa nel doppio confronto quel rigore sbagliato nel match d'andata. Si dispiace perché eravamo a un passo dalla seconda finale consecutiva. Io mi sento di ringraziare i ragazzi per l'impegno che hanno messo oggi nel cercare di ribaltare questa partita e anche i nostri splendidi tifosi che oggi sono stati davvero il dodicesimo uomo in campo. Adesso pensiamo al campionato, abbiamo la possibilità di arrivare nei play-off e ce la giocheremo fino alla fine lì. E con Paternoy, ne parlavamo domenica con Pidatella, questo Paternoy dopo, tra virgolette, l'epurazione di dicembre sembra un'altra squadra, una squadra che mette impegno, mette cuore. È una squadra diversa rispetto a quella della prima parte di stagione, il pubblico lo ha capito, oggi sono arrivati gli applausi nonostante l'eliminazione. Sì, adesso diciamo che abbiamo una vera squadra, sia sul campo e sia negli spogliatoi. E questo si vede benissimo per la voglia e la grinta che mettono partita dopo partita fino al 94esimo. Un'altra domanda, discorso attaccante all'impressione che qualcosina manchi lì davanti, cosa farà la società per ovviare a questa mancanza? Sì, siamo coscienti che abbiamo bisogno di uno o due rinforzi lì davanti, ci stiamo muovendo. Non è facile, devo dire che siamo anche un po' sfortunati perché basta che prendiamo un attaccante poi magari cominciano le prime noie fisiche. Ci stiamo muovendo e cercheremo di far arrivare qualcuno. Per ultimo un'altra brutta notizia di giornata è l'infortunio di Ciarcia dopo i cinque minuti. La speranza è che non sia ovviamente nulla di grave perché è un elemento importantissimo per questa lunga rincorsa che attende il paterno per i playoff. Devo dire che Ciarcia in queste ultime partite ci ha fatto vedere il giocatore che mi dispiace di questo infortunio, sia per il ragazzo che per noi. Mi auguro che non sia nulla di grave e di rivederlo presto in campo. Abbiamo incontrato una grandissima squadra, una squadra che io all'inizio del campionato avevo indicato come una delle protagoniste del campionato. Il doppio confronto è stato un confronto molto equilibrato. A Capodorlando abbiamo vinto noi 2 a 1, però tutto nasce dal rigore sbagliato dal paterno. Bisogna essere onesti e magari quello è stato un segnale. Poi è vero, noi per 60 minuti abbiamo dominato l'avversario, abbiamo creato più di 7-8 occasioni da gol. Abbiamo fatto soltanto due gol, quindi si era riaperta di nuovo la qualificazione e ci abbiamo creduto. Ci abbiamo creduto e poi qua sapevamo che era un campo difficile. I tifosi, società importanti, squadra importante. È stato un risultato straordinario per i miei ragazzi, bravi tutti quanti. Adesso ci dobbiamo proiettare alla partita già di domenica perché di nuovo è campionato. Dobbiamo essere orgogliosi della prestazione. Superare il turno, andare in finale, sapevamo che era complicato. Non siamo molto soddisfatti della prestazione, per come i ragazzi hanno preparato la partita. L'ambiente è molto maturo a preparare questa partita. L'unica cosa che mi dispiace non è uscire, è perdere la partita. Perché è diverso? Diverso perché si va dentro lo spogliatoio un po' amareggiati. Ma ho chiesto ai ragazzi di ripartire subito perché sabato ci aspetta una partita molto difficile, molto complicata, con una squadra che sta crescendo.